Parte 2 Farina 0 per pizza e farina per dolci Questa 0, 0, 0, 0 Regatoni Seda dei piatti Frolli nel grano salaceno Questi biscotti sono divini, divini Farina 0 Mezza penne rigate Man mano sono sempre presaurita Ad ogni fotogramma i capelli sempre più pazzi Polpa fine Buona, questa l'ho presa così una volta per caso Ed è buonissima Allora, Nutella fake Mio marito la odia Mio marito dice una cosa, mi devo mangiare la Nutella o la Nutella Ma questi erano i grandi del risparmio Non so quanto costasse però è andata così Magari ci faccio i dolci, ci lucino Detersivo per piatti Polpa fine Goccioline di cioccolato Cartigenica Una scopa Una scopa nuova Queste scope sono fantastiche Ne ho presa una prima di venire ad abitare qua E ancora resiste Olio per capelli Argan Mettiamo qua Acciughine Al peperoncino Al peperoncino Questo per mio marito Ma ancora sale L'ho presa Io ovviamente non ne mangio Basilico in foglie Mi serviva la salvia Ma non c'era Quindi ho ripiegato Sul basilico Che non c'entra niente Però così Questo caffè in cialde Io di solito lo prendo Su Amazon Il giorno però L'ho dimenticato Quindi aveva una cialda sola Praticamente Quindi intanto ho preso questo Scottex Un altro pacco di cartigenica E questi Pavimenti E superfici Ultima busta Sì Questi Erano in offerte Quindi li ho presi sempre Per mio marito Un altro lattino I cannelloni Rido Perché ho pensato Non li potrei fare Ricotta e spinaci Non ho comprato la ricotta Però ho comprato gli spinaci Così così Mi sento così Gorgonzola Per fare gli gnocchi Che in teoria Dovrebbe esserci freddo E quindi in pratica Ci sono 100 gradi Tonno All'olio extravergine di oliva Scherzatelle I cetrioli Per fare i panini Madonna io li amo Questi cetrioli Sono buonissimi Zucchero bianco Questi funghi Sempre in latta Perché Lo so Sono devastanti Però A me riacciono E quindi Me li compro Panini Questi qua Ci sbaglio I panini Potrei Dipende dalla giornata Se mia figlia Me lo permette Oppure no Ovviamente la mia vita È tutta una variabile Non è che tu decidi Di fare una cosa E la fai Non esiste più Questa cosa Quindi Tutto l'incognita Un altro latte Ah e poi ho preso Questi cristini Pugliesi Prodotto da forno Treccine pugliesi Parmigiana pugliese Boh Comunque Cristini La spesa è finita Incredibile ma vero C'è una bustina Di Pranatal Però in realtà Ho preso solo il latte È una cosa bella La faccio vedere sempre qua Tanto Li vedranno Chi vedrà tutto il video Allora ho preso il latte Queste patatine Per mia figlia Che non lo so Se li può mangiare Perché mia figlia Ha otto mesi Non lo so Poi li leggo Perché non c'è scritto Sai tipo Dai sei mesi Dagli otto mesi E poi le ho preso Le sue prime scarpe Perché già cammina Quindi Le ho preso le scarpe Le devo provare ancora In realtà Perché Le ho preso il 19 Sono bellissime Però non lo so Vi chiamo E basta Questa è la mia spesa Il lattuccio ovviamente Come sempre 12 bottiglie E basta Abbiamo finito Amore ci sono altre buste? Detersivi Detersivi Aspettate Allora ho preso questo Detersivo lavatrice Che l'ho già acquistato E mi trovo bene Devo dire la verità Testato sulla mia pelle Quindi va bene E poi ho preso Questo ammorbidente 12 litri E' ammorbidente vero? Sì 12 litri Ora non lo so Probabilmente Mi cadrà la pelle a pezzi Probabilmente Una puzza di gelsomino Però non lo so Ho visto questa bottiglia Non finisce mai Comodo Perché E' tutto un casino qua Perfetto Abbiamo finito Ditemi se vi piacciono le scarpe Non vedo l'ora di provargliele Basta Io vi saluto E ci rivediamo Spero Non in uno suo Dalla spesa Perché Basta Basta Che coglioni Noi pranziamo Finalmente Alle tre Ciao Bacioni Bacioni